Cosa fa questo? Chi? L'hai visto anche tu che è colorito? Vedi che bel citerino Che schifo E ben ritrovati su Amiciarne, sono i vostri Mina e Mina E oggi li siamo, come vedete dallo sfondo Nella Buil Battle in Team Li andiamo a vincere ragazzi, vi ricordo che abbiamo preso tantissimi bei risultati Soprattutto la scorsa volta che siamo arrivati terzi, vabbè undicesimi A caso perché vincevano i peni, vincevano, vabbè Detto questo, subito iniziamo due Uno Cos'è? Un fantasma Lana Lana E lana nera, bastano questi due Facciamo tutto il mantello grosso e poi tipo i buchi che vanno in dentro Per il nero Ok? Vai, vai, ti vai, ti vai, ti vai, ti vai, ti vai Ci siamo, ci siamo Ci siamo Siamo attivi Siamo attivi E arriviamoci primi E arriviamoci Io voglio un fantasmino coccoloso Comunque se qualcuno dei nostri iscritti, dei nostri pochi iscritti commenta, ci dice come spendere i coins I coins che abbiamo guadagnato qua, perché non li abbiamo ancora spesi Potremmo spendere quella bull battle per fare altre cose, no? Beh Non chiedere queste cose a me Ah, deve essere così? Questa è la testina Dai, sei 4 minuti qua, ci si fa, ci si fa Ci si fa, per vedere Non ci si fa, invece ci si fa Invece non ci si fa Ci si fa, ci si fa, ci si fa Ci si fa, ci si fa Ci si fa, ci si fa, ci si fa Ci si fa, ci si fa, ci si fa 30 secondi hai Eh, lo so Un po' così Ci sentiamo questo Ci sentiamo questo Io non so più cosa fare Ci sentiamo questo, va bene, tranquillo, tranquillo Eccolo Bello, eh? Oh, il nostro Sì Speriamo Sì, ci danno normale, ci danno Alcuni no, alcuni fa il pop Boh, vabbè Ma troppo facile Troppo facile Troppo facile Comunque è ok, good, bellino Troppo facile, guarda cosa hanno fatto in terra Oddio Questo non è un fantasmino Questo poco Guarda, non ti do super poco solo per la faccia Per la faccia come l'hanno messa Per la faccia come le bagnette Ok, così Quelli sono quelle di Paco Oh, questo è good Vedi, questo è già Che carino come il fantasmino Good, 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 good Io ho messo poco Cos'è? Eh no, è quello Super poco Eh no, è quello Io non ho capito Super poco Vedi, c'è il capellino Super poco Super poco Super poco L'hai già detto Guarda, c'era anche la croce fu Super poco Eh, questo qua direi è Fatti uguali Ma non li ha finiti Come non li ha finiti? Poi mi piaceva di più quell'altra Super poco Poi quando capiremo Come mettere le luci Sarà troppo tardi Eh Le luci? Eh, vedi che l'atmosferata Nera così Pop Super pop No, non mi piace Deve essere una cosa bella Questo è già più carino Cioè l'idea del fantasma così Però pop Non deve farlo meglio Io l'ho messo Ok Super pop Non mi piace Ops Via Ma quando mai? Noi noni Potrei esserci di meglio Sicuramente non so Ok Dunque io lo pensavo così Testina Tipo il mantellino Sì via Ok Ma te me l'hai detto? No C'è un'altra? Vai 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 Ai 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 Quanto è quello che devi andare? Io posso farmi una Dai con il secondo round Uno Un cagnolino Cane Anche se l'avevamo già fatto Sempre soldi sono Sempre soldi Perché noi abbiamo fatto un cane Eh sì La cuccia del cane Ti ricordi quella Bellissima cosa Dai veloce Come la vuoi fare? Io faccio l'osso Da scherzo Dai Vuoi fare la cuccietta? Io faccio la cuccia Con il sedere del cane Si Allora io faccio Che colore del cane? Marrone? Cosa fai la cuccia? Si Ma mi lasci lo spazio per fare il sedere? Ok Dove parto? Io parto qua Ma sei in cima al coso? Eh appunto perché così ci metto il nero qui Ci metto il nero che è il cane che esce Esce solo la coda Lanna nera Ah volevo fare il sedere Eh appunto Fai con la lanna tipo bianca Il sedere del cane Cos'è quella cosa enorme? È la cuccia Ci mancava un blocco nero lì eh È normale? Qui Ah no Se devo fare? Questi qua anche di là Legno? Se ce la fai eh Se no ci sta E magari facciamolo Se non ci si fa Si leva Boh Non so perché l'ho fatto Allora potevamo mettere i blocchi No? Non le slab Bello Questo è un lupo È quello di minecraft Però io gli do Super pop Pop Dai Oddio Che cane enorme Ganza la cosa con la... La... La redstone La lingua? Però pop Che non mi piace Ma perché tutti la cacca fanno? Questo sembra un maialino Via C'è gente che lo guarda E' simpatica Ma questo che cavolo è? È simpatica Oddio che è il nostro Che brutto Proprio brutto Proprio brutto Proprio brutto Ragazzi stavolta non l'abbiamo brillato Oh carino A me questo piace Potremmo fare meglio gli occhi Si Per fortuna qualcuno hanno fatto la cacca Mamma mia cos'è questa cosa? Via 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 Volevano fare un barboncino forse Proprio Hanno fatto uno proprio Mamma cos'è? Dai Cos'è? Dove sono? Oddio Cos'è? Bello 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 Sembra un topo No ma è good Perchè avere grande la faccina Cos'è? Sembra un pokemon Si Sembra un topino Io gli ho dato ok Anch'io Boh Questo si Oddio Ci avete iscritti davanti Mamma mia Mamma Ma cos'è? Questo invece sembra un topo Ma cos'è? Un castor No? Hanno vinto? Noi siamo arrivati ottavi Ottavi Eh vedi vabbè E' normale Quindi ragazzi Se vi è piaciuto il video Scusate ma stavolta abbiamo fatto Kipo Lasciate un bel commentone Un bel mi piacione E un iscrizionnona Ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata della Battle in Team Da Mine Mine è tutto Linea Allo studio Ciao Dai Iscriviti al canale Dai Tu Iscriviti Mari 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 Ciao Tu Iscriviti E aspetta Iscriviti 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 Iscriviti